Anche la sua metafisica, apparentemente così fredda, può darci una buona notizia. Tutto ciò che esiste, inclusi voi e io, è buono, cioè è desiderato oppure amato da almeno un altro ente. Quinto, ogni ente è vero. Con questa definizione Tommaso cerca di rispondere a una domanda vecchia almeno quanto la filosofia. Che cos'è la verità? Per Tommaso, la verità e la corrispondenza tra l'intelletto e le cose esterne.